Ben trovato in una nuova edizione di Local News, l'appuntamento con l'informazione dalle province di Avellino e Salerno. Anche quest'oggi siamo costretti ad aprire con le violenze all'interno delle strutture sanitarie. Questa volta non si tratta di un'aggressione fisica ma per certi versi è ancora peggiore il grado di pericolosità di questo tipo di aggressioni. Torno con una pistola, è quello che il parente di un paziente dell'ospedale Moscati di Avellino ha gridato contro tre operatori sanitari e potrete immaginare naturalmente il panico e la preoccupazione all'interno della struttura. Presso l'ospedale Moscati di Avellino si sono vissuti attimi di tensione con un parente di un paziente ricoverato nella struttura di Contrada Amoretta che ha amminacciato alcuni operatori sanitari. Secondo quanto appreso l'individuo è entrato nel reparto dove era ricoverato il familiare e ha iniziato a aggredire verbalmente tre infermieri. La sua furia sembrava essere alimentata dalla convinzione che il parente stesso non stesse ricevendo l'assistenza adeguata. La situazione è rapidamente sfuggita di mano quando l'uomo ha minacciato di tornare con una pistola mettendo ulteriormente in pericolo la sicurezza della struttura e del personale. Profondamente amareggiato per l'episodio di aggressioni verbale il direttore generale dell'azienda ospedale della Moscati Renato Pizzuti che invoca maggiore tutela per gli operatori sanitari. Quanto accaduto nell'unità operativa di medicina generale, sottolinea il direttore, è molto grave. È necessario fare in modo che il personale impegnato non solo nell'emergenza ma anche nei reparti possa lavorare in sicurezza. Occorre ripristinare i drappelli di polizia negli ospedali garantendo un servizio di vigilanza per l'intera giornata. E sulle minacce agli operatori sanitari sono intervenuti anche i sindacati. Dura la presa di posizione del nursing sindacato che invita però anche i vertici dell'azienda ospedaliera ad attuare i piani di contrasto ai fenomeni di violenza. Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario aggredito durante il turno di notte del 9 gennaio nel reparto di medicina. È quanto affermano Romina Iannuzzi e Michele Rosapane del nursing sindacato degli infermieri. Purtroppo anche la provincia di Avellino non è esente da gravi episodi di inciviltà. È in corso su tutto il territorio nazionale un escalation di fenomeni come se la professionalità e il ruolo degli operatori sanitari venisse svalutato e disprezzato al punto da essere additato da una certa utenza come la causa del malfunzionamento del servizio sanitario. Per arginare la deriva doveva intervenire il piano aziendale di prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari. Atto che però denuncia i sindacati a distanza di un anno dalla redazione da parte della direzione strategica resta in stato embrionale mentre sempre nuovi episodi si registrano. Da un'analisi dello stesso sindacato in azienda di fatto il piano non è stato correttamente diffuso agli operatori sanitari. I moduli di segnalazione degli atti di violenza non sono accessibili. Siamo insomma a conoscenza di una serie di aggressioni soprattutto verbali che non vengono neanche denunciate. L'azienda dovrà dunque adottare ulteriori interventi mirati alla prevenzione di questi fenomeni. Droga e riti voodoo. Una rete di spaccio da Salerno passando per Caserta finendo a Teramo messa in piedi da cittadini extracomunitari con la connivenza di spacciatori italiani che aveva come centro il comune di Castel Volturno. Le operazioni hanno visto impegnate decine di uomini come dicevo anche e soprattutto nella provincia di Salerno. Carabinieri della compagnia di Santa Maria Capoavetere in azione per eseguire ordinanze di custodia cautelare emesse dalla GIP del Tribunale su richiesta della Procura nei confronti di 13 persone residenti a Castel Volturno e nelle province di Caserta, Salerno e Teramo. I destinatari del provenimento tra cui diversi cittadini stranieri sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma stanno eseguendo mirate e perquisizioni presso alcune strutture di Castel Volturno note per essere centri di spaccio e consumo di stupefacenti. L'operazione vede l'impiego di 100 uomini, 40 mezzi, 20 militari di supporto delle squadre speciali, 4 unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, armi ed esplosivi. Dalle indagini emerge l'abitudine degli indagati ad effettuare chiamate a maghi in Nigeria o Malawi per assicurarsi il favore degli dei nella compravendita di droga o come protezione del carico dall'Africa orientale fino all'Italia. Emerge poi il confronto con i fornitori connazionali sul prezzo locale dello stupefacente indispensabile per la rivendita in Italia, con prezzi competitivi rispetto alla media di mercato, prezzi che garantivano una grande affluenza anche di piazzisti da altre regioni italiane. Santa Maria Capovetere come centro di questa operazione è stesa però anche alla provincia di Salerno. L'attività avviata dai carabinieri della stazione di Grazzanise si è stesa poi a tutto il territorio regionale con intercettazioni, appostamenti e pedinamenti individuando 13 soggetti ritenuti responsabili di oltre 400 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, eroina, cocaina e marijuana. Un cittadino ganese, 5 nigeriani, 5 italiani, un cittadino tunisino e un venezuelano, questi le nazionalità dei 13 soggetti ritenuti responsabili dei reati. Ci occupiamo ora dei furti in abitazione con una città particolarmente attenzionata dai ladri e ora fortunatamente dalle forze dell'ordine che rispondono rispetto al clima di insicurezza che si registra ad Ariano Irpino. Nelle ultime 36 ore personale del commissariato di pubblica sicurezza di Ariano Irpino, coadiuvato da personale del reparto prevenzione crimine Campania in adesione alle direttive impartite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto di Avellino Paola Spena, ha attuato un'articolata attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire il fenomeno dei reati predatori, in special modo quelli dei furti in abitazione. Sono state attenzionate le arterie stradali che conducono le contrade Orneta, Masciano Montagna, Torara Serra, Foresta Fiumarelle, Sarnecchia, Rione Cardito, tutte contrade interessate di recente da furti in abitazione. L'adozione dei servizi posti in essere mediante 25 posti di controllo ha consentito di verificare le generalità di 328 persone, delle quali 64 risultate con pregiudizi di polizia a carico. Sono stati controllati 210 veicoli, contestate tre infrazioni al codice della strada, controllati inoltre quattro esercizi commerciali. È stata verificata la posizione di sei persone sottoposte agli arresti domiciliari ed è stato effettuato il fermo amministrativo di un'autovettura. E ci spostiamo ora nel Cilento. Carabinieri in azione a Piaggine. È stato infatti attuato un dispositivo di divieto di avvicinamento alla vittima, dispositivo emesso dalla procura di Vallo della Lucania nei confronti di un 48enne. L'uomo è accusato di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti della moglie. Il provvedimento è scaturito a seguito della denuncia della vittima per le continue molestie subite. A Solofra nasce il nuovo gruppo consigliare Davvero Solofra, gruppo a sostegno del sindaco Nicola Moretti. Porteremo avanti la programmazione illustrata alla città. Si legge in una nota diffusa dai consiglieri Gaetano De Maio, Loredana Attianese, Gabriele Bonanno e Gelsomina Martucci. Gaetano De Maio assume il ruolo di capogruppo, Loredana Attianese di vice capogruppo. Il nostro lavoro prosegue nella nota. Sarà portato avanti in continuità a quello svolto fino ad oggi all'interno del Consiglio, essendo stato realizzato con senso di responsabilità e massimo impegno nel rispetto del mandato ricevuto dall'elettorato per il bene di Solofra. La costituzione del gruppo Davvero Solofra segue naturalmente anche l'esito del voto alle elezioni provinciali che ha visto l'elezione del consigliere di Solofra Gabriele Bonanno all'interno dell'assise provinciale. Ed ora voltiamo pagina, apriamo la questione lavoro. Lo facciamo quest'oggi con due buone notizie. Ma andiamo con ordine e partiamo da Contrada Santorelli, sede della Cosmopol, l'azienda che opera nel settore della vigilanza. Alla presenza del presidente del CDI e del presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, Alviti, si è dato il via all'iter di assunzione delle guardie giurate che a capodanno sono state licenziate per la cessazione della commessa del gruppo Intesa San Paolo. La Cosmopol SPA, in una politica di acquisizione di personale qualificato e con grandi volontà lavorative, ha dato il benestare all'assunzione delle prime guardie giurate. Il presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari, nonché medaglia d'argento al valore civile, Giuseppe Alviti, ha espresso vivo compiacimento per questo grande gesto dell'imprenditoria dal volto umano che ancora una volta tende a premiare la qualità professionale della dirigenza Cosmopol. Il presidente Alviti ha sottolineato le capacità manageriali del presidente del CDA di Cosmopol, Francesco Perrotti. E ancora lavoro, ancora con una buona notizia, bando per l'assunzione di 12 addetti amministrativi all'Università degli Studi di Salerno. Il termine per la scadenza di presentazione delle candidature è il prossimo 28 gennaio. Concorso pubblico per esami per la copertura di 12 unità di personale categoria C, posizione economica C1 nell'area amministrativa dell'Università degli Studi di Salerno. Il rapporto di lavoro sarà subordinato e a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. Tutto per servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili dell'Università di Salerno. La posizione prevede lo svolgimento di molteplici attività, ricezione istruttoria di documenti, supporto alla gestione documentale e alla protocollazione di atti, di provvedimenti, compiti di segreteria e di front office, rapporto con l'utenza interna ed esterna nell'ambito dei servizi erogati dall'Ateneo. Collaborazione alla predisposizione di atti amministrativi, collaborazione per la predisposizione e la tenuta di atti contabili, collaborazione alla redazione di atti negoziali e contratti in ambito universitario. Per lo svolgimento delle attività si richiedono le capacità professionali come elementi di legislazione universitaria e normativa dell'Università, elementi di contabilità pubblica, di diritto amministrativo, elementi in materia di contratti pubblici, conoscenza dei principi e normative in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy, conoscenza del pacchetto office, conoscenza della lingua inglese. Monsignor Andrea Bellandi incontra i giovani e dopo l'appuntamento di Acerno ora tocca alla Valle dell'Irno un incontro all'interno dell'auditorium di Baronissi. È in programma per le ore 20 del 12 gennaio l'incontro tra l'Arcivescovo di Salerno, Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi e i giovani e giovanissimi della Forania della Valle dell'Irno. Nell'ambito della visita pastorale che l'Arcivescovo sta portando avanti nelle parrocchie è previsto un momento di confronto presso l'auditorium Benedetto XVI di Baronissi. Credo che queste occasioni di incontro con i giovani siano importanti soprattutto per ascoltare le loro domande, conoscere meglio le loro difficoltà, rendersi meglio conto degli aspetti della vita ecclesiale in cui incontrano maggiori difficoltà e quale immagine di chiesa si attendono, ha osservato l'Arcivescovo Bellandi. Certamente non tutto potrà essere condiviso, ma ritengo, prosegue l'Arcivescovo, che dobbiamo sinceramente come comunità ecclesiale ascoltare i nostri giovani, avere la pazienza del discernimento e dell'accompagnamento. Dopo quella già tenuta il primo ottobre ad Acerno è in programma una nuova occasione di confronto, di dialogo con i giovani, alla presenza di Don Roberto Faccenda, direttore della pastorale giovanile della Diocesi, oltre che dei parroci della zona. Io studio, questa è la campagna promossa dalla regione Campania a sostegno degli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Più di 30.000 borse di studio del valore di 250 euro verranno erogate nel corso dell'anno scolastico 2023-2024. Vediamo. Nuovi sostegni per il mondo della scuola. La regione Campania ha pubblicato il bando Io studio, bando relativo all'anno scolastico 2023-2024, che ha lo scopo di aiutare una parte degli studenti del territorio regionale, di famiglie con reddito basso, a sostenere le spese relative alla scuola, affinché possano avere maggiori opportunità di svago e di conoscenza, ma anche costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura. Grazie al bando Io studio saranno erogate 30.684 borse di studio del valore di 250 euro ognuna, in favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblico o privato paritario. Le risorse destinate al bando sono pari a 7.671.000 euro, come da decreto ministeriale di riparto. L'importo stabilito per ciascuno studente assegnatario di borsa di studio è di 250 euro. Un aiuto economico che servirà ad acquistare libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Il bando 2023-2024 permetterà di distribuire 30.684 sostegni economici. Per partecipare occorre l'attestazione dell'indicazione della situazione economica equivalente in corso di validità. L'Ise non deve essere superiore a 15.748 euro. Grazie a tutti.